Sicuramente l'Inter è una delle favorite per la vittoria del campionato pure quest'anno e siamo contenti della prestazione che abbiamo fatto perché abbiamo affrontato una partita in modo coraggioso per cercare di vincerla. Poi abbiamo pareggiata ma va benissimo così. Abbiamo giocato sempre la stessa maniera, sia dopo il gol loro, poi siamo andati ancora sotto. Sempre uguale, forse dopo il 2-2 abbiamo rischiato un pochettino troppo, in un paio di circostanze potevamo essere un pelo più attenti. Mi ricordava contro Lazio che c'era lui, sì è un caso, contentissimo del gol, poi anch'io me lo sognavo contro l'Inter la notte, l'ho sognato anch'io. Mi dedica sempre a mio papà che da là sopra mi aiuta sempre, sempre vicino a me. Più passa il tempo, più passa le partite, più capiamo quello che ci chiede il mister, noi abbiamo capito che la sua filosofia, stiamo cercando di applicarla, probabilmente non riusciamo ancora a applicarla al meglio però siamo sulla strada giusta secondo me. Il calendario nelle prime partite non ci ha aiutato e non ci aiuta perché anche le prossime sono partite sicuramente tosti. Noi facciamo il nostro, poi sicuramente se arrivano punti in questo momento è meglio, però già comunque fare due punti contro queste squadre penso sia un buon risultato.